io ho diventato oooooooooooooooooooooooooo si apriamo oggi quando mi ha detto rente, rente, rente fa la pistana ma non puoi filmare la vera pistana mi fatti la mano non ho ahahahahahahahahahahahahaha che vuoi fare i fiori? bello vai che ne sono i rispogliatori si o domani potrò chi Pietro? per trovarsi i santimedi mi amavo dove è santimedi? a cremura alla cremura dietro 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 riscaldare non è il brunetta quindi si chiedeva io ho primo e non ci dava no per te come cazzo ho capito ma ricordate non so non so ma non so ma non so ma non è ma non so ma non so ma non so ma non so adeguare l'altro è mi l'uomo e allora la 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 Oda E' un po' più profondo E' un po' più profondo E' un po' più profondo Oda Oda chi? Youtube Oda 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 Il titolo più superiore l'ha messo Oda 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 E' un po' più profondo Oda 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 Grazie a tutti.